. Vi porto dieci comandamenti. Perché ce li porti? Ve li porto perché magari possono tornarvi utili. Io vengo da un'altra epoca rispetto a voi. E nell'epoca precedente, come vivevo io, questi già c'erano. E c'erano già nell'epoca precedente ancora, quella dei nonni, dei nonni, dei bisnonni, dei trisnonni, dei quadrisnonni. Sono dei comandamenti che, secondo me, vi possono aiutare a stare meglio, a vivere meglio e a portare al massimo le vostre caratteristiche, le vostre eccellenze, le vostre bellezze. Il primo comandamento è questo. Sorridete al prossimo. È una cosa bellissima. Perché voi, quando sorridete, fate, innanzitutto sorridete a voi stessi, ma poi garantite a chi vi sta di fronte una possibilità di sentirsi sereno e di poter parlare con voi, di potersi liberare e quindi di poter accogliere da lui tutte quelle ricchezze che quella persona è in grado di potervi dare. È come se apriste la porta di casa vostra e permetteste a chiunque di poter entrare in pace. Un sorriso fa bene, fa benissimo. Accogliete chi vi sta di fronte perché è uno stato di benessere che garantite automaticamente alla persona con la quale state interloquendo in quel momento. Questo è il primo comandamento. Se potete, sorridete sempre a chi avete di fronte a voi. Il secondo comandamento è Usate ma non abusate. Tutto. Usate quello che volete ma attenzione all'abuso che ne fate. E gli anni passano. Scusate che non mi hanno messo pure questo catetere qua. Ecco. È importante non abusare e vale per tutto. Vale per tutto. Io ad esempio faccio ogni tanto delle discussioni, lo sentivo prima, i ragazzi che sono venuti prima, quello che aveva fatto il film horror lì quando era ragazzino. A proposito di film horror, poi mi riattacco qua. Io quando ero giovanotto, lavoravo con l'allora assessore alla cultura di Roma, tal Nicolini, che aveva organizzato un festival cinematografico dell'horror. E c'erano arrivati a Roma questi 20 film da vedere. Li vediamo prima per organizzare il festival e belli ce ne saranno stati sette. Gli altri in sé potevano guardare. Erano veramente brutti da morire. Che facciamo? Gli ho detto, facciamo una bella cosa. Diamo il premio al più bello, ma diamo pure il premio al più brutto. Io vi garantisco che durante le proiezioni di quello che vinse poi, che fu non aprita quella porta, The Texas Chainsaw Massacre, c'era la sala bella piena, piaceva. Ma quando c'era la proiezione per premiare il più brutto, era gremitissimo. E c'erano dei film che erano inguardabili. Vinse Orrore dalle Fogne. Io vi invito a cercarlo da qualche parte, non so dove era intracciabile Orrore dalle Fogne, ma era bellissimo, perché non c'era niente che funzionasse in quel film. La trama... Il film inizia dunque. Se mi ricordo bene, c'erano 45 minuti di persone che camminano per New York. Passano accanto a un tombino e si sente... E sparivano. Poi passa, che ne so, una suora... Passano due ragazzi di colore e camminano... 45 minuti così. Dal nulla ciccia uno su un aereo che fa... Fotografate questa maledetta città. Clic. E compare sta lastra di Manhattan dove c'era una cosa tipo un vermone sotto, fatto... Tiriamo la bomba. Si sente... Pfff... Stacco. Due che camminano. Passano vicino a un tombino. Pfff... Fine. Ha vinto. Ha vinto. Non poteva perdere. Più brutto di così è inconcepibile. Comunque vi dicevo... Usate ma non abusate. Perché usare una cosa è importante. Abusarne si finisce per diventarne schiavi. E questo vale anche per voi soprattutto che... Avete a disposizione questo splendido mondo tecnologico. La tecnologia è una cosa importante perché vi permette di... Avere nuove strade rispetto alla nostra generazione che non le aveva affatto. Però un conto è essere voi padroni della tecnologia. Un conto è che la tecnologia diventa padrone della vostra vita. Questo cambia completamente tutto. Io lo vedo con i miei figlioli. Stiamo cercando di educarli in questa maniera. Utilizzatela ma non ve ne fate divorare. Non diventate schiavi di ciò che potete usare. Questo vale per il cibo. Questo vale per i rapporti interpersonali. Questo vale per l'amore. Questo vale per tutto. Le cose usatele. In senso buono. Ma non abusate mai. Se no diventate schiavi di quello che potrebbe invece essere vostro. Il terzo comandamento a questo io credo ciecamente. Credete nei sogni e diffidate delle illusioni. Siamo circondati dalle illusioni. I sogni sono una cosa che appartiene a noi. I nostri sogni vengono da noi. E quindi in qualche modo ci stanno dicendo che cosa possiamo essere. Che cosa siamo. Cosa potremmo diventare. Qual è la nostra strada. È per quello che noi abbiamo dei sogni. Ognuno ha sogni diversi dagli altri. E questi sogni vanno coltivati. Si cerca di raggiungerli. Ci si può riuscire. Non ci si può riuscire. Ma di sicuro si sta percorrendo una strada che appartiene alle nostre gambe. Che appartiene al nostro percorso. Le illusioni no. Le illusioni invece sono desideri di altri. Che vorrebbero applicare a noi. Diventiamo, come dire, prede di interessi altrui. E nelle illusioni c'è tutto. Ci sono le religioni. Ci sono le ideologie. C'è la pubblicità. È tutta una gigantesca illusione che vi fa credere di dover essere. Desiderare quelle cose. Ma non sono cose che sono dedotte. Sono cose che vi vengono indotte. Ed è un peccato. Ed è un peccato perché è un mondo che non ci vede più muovere noi stessi da parte di noi. Ma veniamo mossi da altri. Quindi occhio alla penna. Credete nei sogni. Ma diffidate dalle illusioni. Non desiderate cose che non vi servono. E dice, che facciamo a sapere che ci serve? Pensate che in questo momento ci sono delle persone nel mondo che stanno cercando di creare cose che vi vogliono far credere che desiderate. È un disperato tentativo. Prima si vendevano le cose che tornavano utili. Poi quel mercato si è chiuso. Quello del necessario. E si è aperto il mercato del superfluo. e di conseguenza cercano di vendervi qualsiasi cosa. Io non lo so se vi capita ogni tanto di vedere la televisione. Io ultimamente sono rimasto quasi stupefatto dalla televisione. Clicca. La vede un film. Si ferma il film. Uomo, la tua libertà non ha confini. Dentro di te alberga un desiderio che devi soddisfare. quali sentieri puoi percorrere. Quali ambizioni puoi raggiungere. Il mondo spalanca le sue braccia e ti vuole accogliere. Non disperdere questa speranza. Raggiungila. Skoda 21. Perchè? 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 Perchè sta filosofia prima? Eh, uno guarda, dice. Però, cazzo, è vero. Tasta libertà. Maria! Eh? Maria, io domani mi compro la Skoda. Eh, amore, fa come ti pare. E il giorno dopo? Ah! Suona la Skoda. Accendo la radio. Solo col deodorante, il refresh. Tutto quello che desideravi sarà tuo. Cazzo, ecco che era. La Skoda. Però... Maria, eh! Vado un attimo in profumeria che... Gli ho capito una cosa che... Il giorno da, ta, dentro la Skoda. Vado un attimo. Mo. Mo. Che poi non... Senza il tuo iPhone 28 non potrai mai avere quello che tutto il mondo ti può dare. puoi parlare con chiunque. Chiunque sarà per te più di un amico, più di un fratello. I tuoi pensieri voleranno per la Terra e tu potrai farli accogliere da chi vorrai e ricevere i suoi e finalmente unirti in questa danza tribale universale. E finalmente sarai uomo. Mazza. Maria! Eh! Devo dire una cosa, ora torno. E finalmente dentro la Skoda. Mi s'è violenta, è un culo. Ma questo... Mo. Maggio, è tutto uguale qua. I due attirano. E c'è un fan du loire. Tran. Quello, è un fan du loire. De parfum di ce soia. Questo si tuffa. Un maschio bello, tutto leggerlo. Da quaranta metri. Lei dall'alto che lo guarda e fa... E... Ecco che... Maria! Nella sua Skoda, con l'odorante, si mette una cosa... Maria! Che c'è per cena? Pasta e facioli. Ecco che mancava. Ed è qui quel punto. perché la realtà... È che veniamo... Bombardati. È una vera e propria... È una vera e propria... Induzione alla felicità. Loro dicono, se la gente non sa cosa vuole, glielo diciamo noi. E a quel punto... E a quel punto... Diventiamo... Prigionieri di un orizzonte che ci viene... Sistematicamente spostato. Abbiamo un desperato bisogno di raggiungere quelle cose. Vi ricordate che... Una volta c'era un... Un libro di Eric Fromm... Si trovava... Avere o essere. No? Avere o essere. Adesso è uguale invece. Essere. Sembra che bisogna essere per poter avere. E se non hai, non sei. Quindi... Si sono uniti. Prima c'era una divisione tra avere o essere. Adesso è avere e essere tutti quanti insieme. È come... La nitroglicerina. Se pigli la nitro non succede niente. Se pigli la glicerina non succede niente. Se li metti insieme e far botto. E questo è un problema di quello che ci potrebbe accadere. Attenzione. Veramente. Non desiderate cose che non vi servono perché poi diventa tutta una terribile... Fatica. E a proposito di fatica. Apprezzate la fatica. Se potete. Nella vostra vita. Non abbiate paura di faticare. Perché il valore delle cose è determinato dalla fatica che si impiega nel poterle ottenere o nel poterle realizzare. Se otteniamo delle cose senza fare nessuna fatica, queste cose non hanno nessun valore. Non servono a niente. Non ce le rendiamo nemmeno conto. È l'immensa fatica che facciamo per poterle ottenere che gli dà valore. Questo vale non solo per le cose, non solo per i traguardi, ma anche per gli affetti, per le sensazioni, per i sentimenti. La fatica è un piacere se diventa amica ed è un terribile mostro se non è una nostra amica. E certe volte ci illudono che le cose ci possono appartenere senza fare alcuna fatica. Quasi che ci aspettassero di diritto. E probabilmente riusciamo anche a ottenerle con grande facilità. Ma poi ce le abbiamo lì e poi ne vogliamo solamente altre. Perché tanto non costa nessuna fatica ottenerle e quindi non hanno nessun valore. E se le cose che abbiamo e gli affetti che abbiamo non hanno valore, se le cose che ci stanno attorno perdono di valore, guardate che poi potreste avere grossi problemi. Perché quando le persone hanno cose o sentono cose che non hanno valore, finiscono per non rispettare. Noi rispettiamo ciò che ha valore. Se le cose non hanno valore non le rispettiamo come non rispettiamo le persone. Se per noi non hanno un valore importante, in quanto è stato anche faticoso poterle accettare, poterle tollerare e poter vivere insieme a loro. Sesto comandamento, quinto, che è il sesto, sì. Siate felici. Diceva Kurt Vonnegut quando siete felici fateci caso. Perché noi siamo abituati a immaginare che tutto ci spetta di diritto e quindi quando accade una cosa che è spiacevole la vediamo come un'alesa maestà la nostra esistenza. In realtà nella vita esistono cose piacevoli e cose spiacevoli. Ma la felicità fondamentalmente dipende da noi. Lo sapete che dicevano i nostri nonni, ma l'avete sentito pure voi. Se avete pure voi i nonni, se state qua qualcuno va partorito. Quindi in qualche modo è una sorta di dipendenza genealogica della quale non possiamo fare a meno. Chi vuole il bicchiere mezzo pieno è chi guarda il bicchiere mezzo vuoto. Dipende da noi, perché la vita è uno stato mentale. Se noi abbiamo un bicchiere e guardiamo la parte mezza vuota saremo eternamente infelici. Se guardiamo quella mezza piena, invece saremo contenti perché nella vita si fanno delle scelte, no? E come si dice, a ogni scelta corrisponde una rinuncia. E se io poi passo tutta la mia vita a guardare ciò a cui ho rinunciato invece che a guardare ciò che sono riuscito ad ottenere e faccio una vita terribile perché è faticoso. C'è sempre qualcosa a cui si deve rinunciare per poter avere qualcos'altro, no? E questa è la logica del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Godetevi il bicchiere mezzo pieno. Non guardate quello mezzo vuoto. E se per caso volete il bicchiere pieno pieno e non riuscite a riempirlo, il bicchiere siete voi. Fatevi un bicchiere più piccolo. Desiderate di meno. Tutti quanti abbiamo delle saccocce nelle quali possiamo mettere delle cose. Ma nelle saccocce c'entra un certo numero di cose e le altre non c'entrano. Il problema è che viviamo in un mondo che ci illude che tutto è possibile, che tutto ci spetta di diritto, che ci sono mille cose che possiamo ottenere. E ogni volta ci spostano all'orizzonte, come vi dicevo prima. E così si vive costantemente in un'eterna insoddisfazione. Ed è un peccato. Ed è un peccato soprattutto all'età vostra. All'età vostra voi avete il diritto e il dovere di essere felici per goderveli fino in fondo quello che la vita vi mette a disposizione. e la vita vi mette a disposizione la cosa più bella che ci sia. Questa. Godete della diversità. Pensa a un mondo dove siamo tutti uguali. Che palle. Mamma. Che? È una noia mortale. Ma ci sono tutti i tipi di diversità, sono bellissimi. La diversità della natura. Ci sono diecimila tipi di ecosistemi differenti. La diversità della cultura, la diversità delle razze, la diversità delle lingue, le diversità sessuali, le diversità di qualunque tipo di pensiero. Proprio è la diversità che è bella. La diversità è un concetto un po' particolare perché è un concetto di distanze. Se io scendo in mezzo a voi, vedrò una persona alta, una persona bassa, vedrò un etero sessuale, vedrò un etero no binary, vedrò un gay, vedrò un bianco, vedrò un giallo, vedrò un nero, uno a pallini. Strano, non l'ho visto mai però. Me lo vedo. Poi invece da qui vedo tutti quanti voi, vedo una platea. Per cui mi sembra già un comparto piuttosto unico. Eppure tutti diversi. Ma se io adesso mi trovassi nello spazio, al posto della Cristoforetti, vedrei semplicemente un sasso umido, che è la terra, dove dentro c'è il genere umano. Non colgo la diversità, ma è pure quella la diversità. Un esempio più banale, lo sapete, ormai è uno stereotipo della nostra cultura, no? Ci sono, che ne so, quelli, che poi non è così proprio, però per alcuni stronzi è ancora così. Cioè uno del Veneto non sopporta uno della Campania, non si sa perché. Dicono, mi sono veneto, mi sono veneto, mi sono veneto, mi sono veneto, questi cosmi, da lì a lavorare. Ecco, immaginate questo Veneto e questo Campano che si accolgono tra di loro. Siamo in Texas, ci spostiamo in Texas. Dice perché in Texas? Vabbè, da un'altra parte, però adesso andiamo. Siamo in Texas, tutti texani. il Veneto e il Campano si incontrano. Italiano, italiano! Che piacere, che piacere, che piacere! È sempre una questione di distanze. È sempre una questione. In terra straniera, automaticamente quelli che non si sopportavano si riscoprono fratelli. Tutto qua. Di conseguenza, la diversità è la cosa più bella che ci sia in assoluto. Non la disperdete mai. Siate voi stessi, fino in fondo, sempre! Applausi E... Boni, Boni! E qual è la diversità? Se rompevo i coglioni, me lo dica. E qual è la diversità tra me e voi? Come tra me, Gianni e voi. Che voi avete più futuro che passato, noi più passato che futuro. Con questo non ci piove. Però... Però da quel passato si possono attingere cose. È uno scambio quello delle diversità, no? Noi veniamo da un'epoca differente. E dalla nostra epoca ci piacerebbe potervi regalare ciò che siamo sicuri possa tornare utile a qualunque epoca, che sono dei valori trasversali. Valori che vanno bene sempre. Che aiutano sempre. Questi dovrebbero essere i miei dieci comandamenti. In realtà è un eptalogo. Un eptalogo, che non è tipo uno strano marsupiale del Sud America, l'eptalogo. No. È che sono sette. Dice, ma avevi detto dieci. Ecco, la diversità serve proprio a questo. I prossimi tre ognuno se li faccia per sé. Utilizzate questi se volete. Se volete non li utilizzate. Però poi mi dite che vi avevo avvertito, eh? Io ve l'avevo detto che questi tornano utili. E ognuno, in base al proprio carattere, alla propria natura, al suo proprio modo di essere, alle proprie ambizioni, utilizzando questi sette, si fa i propri tre. Sempre nel rispetto della diversità, del sorriso e del piacere di stare insieme agli altri. Io non so che altro regalare a un'altra generazione se non qualche consiglio di questo tipo. È vero che i figli assomigliano sempre più ai loro tempi che ai loro padri. però io questo ci avevo a disposizione e questo vi ho detto. Dovrei chiudere in una maniera spettacolare. Potrei farlo tipo Steve Jobs. Be angry, be foolish.